Ciao a tutti e bentornati sul canale, io sono Stefania e oggi voglio condividere con tutti voi come realizzare una ghirlanda natalizia. Per realizzare questa ghirlanda natalizia ci occorre una pistola e della colla a caldo, del nastro decorativo a tema natalizio, quello per fare i fiocchi va benissimo, un ring in polistirolo e delle decorazioni a forma di fiocco di neve. Per prima cosa avvolgo il nastro decorativo intorno al ring fino a ricoprirlo tutto interamente bloccandolo con della colla a caldo e facendo molta attenzione perché la colla è davvero molto calda. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Una volta che ho avvolto interamente il mio ring inizio a decorare con ogni singolo fiocco di neve. Grazie a tutti. E come ultimo tocco incollo un nastro di raso rosso che è di contrasto con la mia ghirlanda che è tutta bianca. Ed ora è pronta per essere appesa alla mia porta. Il mio video termina qui, spero che vi sia piaciuto e se vi è piaciuto lasciate un pollice in su. Vi lascio giù nell'info box tutti i link ai miei canali social e vi ricordo che vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti. Se non siete ancora iscritti iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per non perdere i prossimi video. Ciao e alla prossima.